Siamo qui con il signor Marrizio, ristoratore di Farigliano. Buonasera, per quale motivo questa sera lei e i suoi colleghi commercianti fariglianesi avete deciso di accendere le luci dei vostri negozi? Questa sera abbiamo seguito le indicazioni di associazioni di categoria dove ci invitavano giustamente ad aderire a questa iniziativa simbolica per tirare su le serrande. Di solito quando si protesta si abbassano le serrande. Questa sera abbiamo voluto alzare, accendere e riaprire simbolicamente i nostri locali e domani mattina consegnare le chiavi dei nostri locali al sindaco in modo significativo. Allora, intanto bisogna dire che ci teniamo tantissimo alla salute pubblica e quindi seguiamo tutte le direttive che ci sono state chieste. Ci vogliono rendere regole certe, sicure, degli aiuti che in questo momento non stiamo assolutamente avendo. Quindi, consigliando le chiavi al sindaco che sicuramente comunicheranno come tutti gli altri sindaci d'Italia perché questa è un'iniziativa nazionale e per far sentire la nostra voce, la nostra voce di aiuto perché in questo momento siamo veramente molto, molto, molto in crisi, in difficoltà. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.